Io sono Elisabetta Conti, lavoro in questa scuola da vent'anni e sono la responsabile di Plesso. Plesso è formato da 11 classi composti principalmente da 20-22 bambini e il corpo docente è tutto formato da insegnanti che si conoscono da anni tra di loro e che garantiscono una notevole continuità. La nostra scuola è organizzata per laboratori e per aule dove i bambini si recano a fare dei percorsi particolari tipo l'aula di informatica, l'aula di musica, l'aula di scienze, l'aula video, l'aula di immagine. I bambini a gruppi uniti per classe si recano più volte alla settimana in queste classi. Abbiamo anche però molto attenzione negli spazi esterni, infatti abbiamo un grande giardino che corre tutto intorno alla scuola e nel giardino, nel retro della scuola, abbiamo da anni attivato un'attività con l'orto per stimolare i bambini alla conoscenza della vita nell'orto, degli animali e delle piante. Il nostro progetto di Plesso è impostato sul stimolare il bambino nella conoscenza della biodiversità e dell'ecosostenibilità. Siamo attivi per la conoscenza dell'agenda 2030 collegandoci a un progetto di comune. Grazie per la visione!